Per chi conosce e frequenta il Gran Sasso, la serata del 2 febbraio rappresenta una data storica. Da ieri infatti sarà possibile utilizzare ed usufruire della funivia anche dopo le 17, orario che normalmente segnava la chiusura dell'impianto a causa della scarsa visibilità. Il finanziamento è di fonte comunale e l'organizzazione del cantiere, direzione dei lavori responsabili del procedimento è un'emanazione del Comune dell'Aquila. Quindi in questi lavori non c'è un intervento diretto dell'azienda, l'azienda ovviamente sarà beneficiaria di questa miglioria della funivia che consentirà l'esercizio notturno. L'esercitazione è sostanzialmente una prova di soccorso, si simula in condizioni notturne utilizzando questa nuova illuminazione una procedura di evacuazione delle cabine principali dell'impianto che si simula un'operazione di evacuazione dell'impianto in fase notturna. Dopo i collaudi dei tecnici dell'Ustif, l'ufficio speciale trasporti a impianti fissi, è arrivato il via libera all'illuminazione notturna della funivia, più volte rinviata per i ritardi nel rilascio dei pareri da parte dell'ente parco e soprintendenza. Al via dunque le corse notturne che consentiranno di ampliare l'offerta turistica per le strutture in quota e di aggiungere un altro tassello importante nell'ambizioso programma di rilancio della stazione sciistica di Campo Imperatore. E piano piano, anche con questa cosa qui, l'illuminazione che è bellissima, tutte queste polemiche sulle farfalle, sui giri, gli uccellini, è uno spettacolo. Il lavoro non è soltanto quello dell'illuminazione, l'illuminazione inserita in un lavoro più grande era quello del modernamento ventennale di 4 milioni di euro. È stato un progetto condiviso col parco con il quale abbiamo ragionato e abbiamo trovato una quadra per la soluzione sia di consentire l'esercizio notturno all'impianto funiviario sia garantire il rispetto della fauna e della flora e dell'ambiente sul quale andavamo ad intervenire. Grazie. Grazie.